Questo è un anno molto importante perché c'è stata una risposta del pubblico, questo è stato il grande regalo che ci ha fatto questa rassegna, una risposta del pubblico molto forte, quindi la piazza piena, quindi dei film anche non facili tutti, però diciamo con una scelta che è stata molto apprezzata e questo insomma ci rende molto soddisfatti. Sono 16 anni che facciamo faticosamente questo percorso dedicato soprattutto ai ragazzi dell'isola ma a tutto il pubblico, un pubblico particolare che ama il cinema ma ama un cinema che non vede perché il cinema arriva solo quando arriviamo noi con questa rassegna che offre appunto una varietà anche di titoli che sono alcuni titoli pescati dalla nuova stagione quindi non potevamo non cominciare con C'è ancora domani pensando che forse non sarebbe stata proprio la sala pienissima perché abbiamo immaginato che quest'arena si riempisse un po' meno per il fatto che è un film molto visto invece la cosa meravigliosa è che sono venute tante donne con i loro compagni, tanti ragazzi e comunque anche persone che l'avevano già visto e sono partiti gli applausi due volte alla fine una volta alla fine del film e ancora dopo sui titoli di coda con qualche lacrima di commozione perché è un finale che evidentemente continua ad emozionare però è piaciuto molto i film di Giovanni Veronesi, Romeo e Giulietta ma soprattutto il mix delle serate sono state delle serate che hanno offerto una doppia alternativa e il pubblico è cambiato anche tra un film e l'altro quindi scegliere questo offrendo anche una selezione un po' diversa è stato anche un modo per regalare qualcosa dell'ultima stagione, degli ultimi mesi tra l'altro promuovendo per quei turisti che invece non sono stati rampedusani e sono venuti dalle città la campagna dedicata a Cinema Revolution quindi diciamo vi ho fatto anche un po' di promozione per il cinema in sala quando i turisti che si sono mischiati ai lampedusani naturalmente torneranno e useranno anche questa campagna che ha uno slogan la rivoluzione continua quindi il famoso cinema a 3,50 euro il cuore della rassegna è sempre dedicato ai ragazzi e noi abbiamo una sponsorizzazione sostanzialmente un partenariato che abbiamo con SIAE oltre che il supporto del MIC del Ministero della Cultura con la direzione Cinema Audiovisivo e soprattutto della piccola grande fondazione Nobis che è una fondazione privata dal cuore grande appunto che supporta molto l'iniziativa dei ragazzi che è un laboratorio dedicato a ragazzi che spesso non hanno mai visto un film sullo schermo imparano, c'è una sorta di alfabetizzazione a guardare un film sul grande schermo tant'è che loro spesso non conoscono gli attori dei film ma conoscono più attori che invece magari vedono nelle fiction perché è un altro modo di seguire diciamo comunque l'audiovisivo per quanto riguarda appunto questo discorso dei ragazzi c'è una novità perché dopo tanti anni siamo riusciti a realizzare una videoteca che viene donata diciamo con l'inizio di questa videoteca che viene donata alla scuola, al liceo di Lampedusa e questo liceo di Lampedusa avrà quindi a disposizione una videoteca che sta arrivando ai primi 100 titoli sono film della storia del cinema italiano qualche film internazionale titoli che sono anche squisitamente culturali quindi per esempio anche una sorta di raccolta di DVD particolari che mostrano i ragazzi, non so, anche i musei sono ragazzi che non si muovono da qui è difficile muoversi da quest'isola e quindi è un modo per farli viaggiare con il cinema attraverso anche la storia del cinema attraverso film internazionali film che hanno anche giudicato come giuria in questi anni e comunque che uniscono lo spettacolo anche all'intrattenimento diciamo diverso noi poi faremo una sorta di cine club cioè questo laboratorio continua nel corso dell'anno con i collegamenti via zoom con la possibilità di rendere interattiva anche la loro partecipazione quindi loro vedranno i film e seguiranno appunto una o due volte al mese un percorso per cui in questi incontri faremo davvero una sorta di formazione la vostra посpezione perché non è un tanto semplice luogo la